settembre mese di cambiamenti e di novità intervisto per la nuova rubrica ladies chiara carli amica e animo creativo di pesavento art expression io vorrei parlare di dreamland di questo progetto meraviglioso di questa sfilata a porte chiuse che abbiamo visto giorni scorsi si parla di rinascimento fashion e quindi di cambiamento nella moda mi dici come è nato questo progetto il progetto nasce da un tema molto caro pesavento il sogno abbiamo immaginato cercato e trovato le terre dei sogni dove tutte le donne si possono identificare un racconto onirico dove sono protagonisti in passerella le nostre collezioni indossate da top model e artiste arte bellezza insieme le donne che indossano pesavento sono donne libere che vivono la loro spontaneità con emozione come nascono chiara le collezioni le collezioni nascono le emozioni che sono difficili da raccontare le fonti di ispirazione sono viaggi mostre il mondo della moda tutto immaginando donne che indossano i nostri gioielli splendono per se stesse per gli altri pesavento quindi non si ferma chiara con le tue creazioni cosa vuoi raccontare e soprattutto cosa ci aspetta nel futuro il presente incerto ci ha spinto a creare collezioni classiche vista in chiave moderna collezioni rassicuranti forever chic perché l'eleganza non passa mai di moda double your charm doppio charm una collezione che rende bella la donna da ogni punto di vista la sfilata dreamland secondo me ha una forte impatto empatico anche per la musica la musica secondo me è ispirazione e ne abbiamo già parlato tante volte io e te quindi voglio solo rendere pubblica questa cosa la musica che cos'è per te per me la musica energia ritmo come i nostri gioielli grazie chiara e al prossimo appuntamento per la rubrica ladies